Nadia Toffa accusata su Instagram, illudi le persone di poter guarire dal cancro, lei risponde, tornata le iene, non ho mai parlato di guarigione, ancora pareri discordanti su Nadia Toffa. La iena, da quando ha dichiarato di aver avuto un cancro dopo essere tornata in tv all'inizio del 2018, ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno, ma anche voci fuori dal coro, che l'hanno accusata di non aver parlato dell'argomento in maniera corretta. Nelle ultime ore su Instagram un'utente si è scagliata contro la Toffa, accusandola di aver illuso i malati di poter guarire con facilità dal cancro. La donna ha dato a Nadia Toffa della falsa, anche perché lei combatte contro il tumore da diversi anni, e della bugiarda, la iena ha però voluto subito. Puntualizzare, l'utente che l'aveva attaccata, davanti a queste parole si è ricreduta, anche perché la Toffa, quando parlò del suo ritorno in tv, non aveva toccato l'argomento, guarigione.